Primo, siamo contenti perché alcuni di voi lo sapranno di già, una famiglia che ha deciso di regalarci un nuovo mezzo. E questo nuovo mezzo significa che si chiama Ambulanza. Mi piaceva vederti, incontrarli e ammularvi in buone feste a tutti. Quello che diceva prima Luca è vero, ci siamo incontrati, io come assessore al patrimonio, già da quando sono delega praticamente, mi sono impegnata affinché tutto questo spazio fosse dato in concessione all'Avis. Vogliamo che quest'Avis cresca, come tutte le altre associazioni che ci sono sul territorio. Sono felice di essere amministratore in un paese dove ci siete voi, perché posso confermare quello che diceva Gianfranca, quello che diceva Luca, siete considerati l'elite, quindi non sono parole, frasi fatte. Siete famosi perché operate con professionalità, con passione e con spirito, diciamo, da buon samaritano. Voi siete, per me, un vanto, un orgoglio. Per me è sempre una gioia arrivare qui. Sento un piacere vedere con che entusiasmo lavorano i ragazzi. Per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia. Per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia. Per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia. Per me è sempre una gioia, per me è sempre una gioia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.